Salve e bentrovati. Il viaggio continua. Il nostro viaggio, quello alla ricerca dei misteri legati ai luoghi, il nostro viaggio arriva ad una tappa che è fondamentale per la cristianità e per il mondo moderno direi. No Claudio? Con noi c'è ovviamente Claudio Canistrà, astrologo, docente di astrologia, consigliere della biblioteca Bosano De Boni di Bologna, ma soprattutto come tiene a sottolineare tu Claudio, esperto di astrologia ma legata ai luoghi. Ai luoghi. Ecco perché luoghi misteri. Sì e diciamo che il luogo di cui dobbiamo parlare oggi è un luogo tutto speciale. Lo presento io? Sì, presento. Allora parliamo di Fatima e delle apparizioni. Anche perché se ricordate amici nella puntata precedente nella quale ci siamo occupati della Russia e dell'Ucraina o Ucraina per meglio dire lo abbiamo fatto comunque a modo nostro, alla ricerca dei misteri che possono essere legati, della storia eccetera e abbiamo legato il famoso, così come del resto tutti stanno cercando di legarlo, il famoso terzo segreto di Fatima a quello che sta accadendo in Ucraina. In realtà non è proprio così, diciamo, no? È solo se vogliamo Claudio e poi ci inseriamo direttamente a Fatima, se vogliamo quello che è legato alla Russia ma anche all'Ucraina è questa richiesta che spesso ha fatto la Madonna affidandola ai tre pastorelli, questa richiesta di consacrare o come ci ha ricordato padre Marziano di affidare, di fare un affidamento della Russia e dell'Ucraina alla Vergine Maria. Sì, assolutamente, diciamo che... Però il fulcro è Fatima. Ecco, dobbiamo partire dal luogo il luogo perché è questo luogo in cui nel 1917 c'è stata questa apparizione, queste apparizioni della Vergine è perché sono state una serie di apparizioni. Sì, il 13 del mese, 13 di maggio e poi ce ne sono state delle altre 13 giugno, 13 luglio, poi 19 agosto perché i pastorelli sono stati praticamente incarcerati 15-19 agosto e poi 13 settembre, 13 ottobre. Queste apparizioni... Sì, Claudio, ma perché quando qualcuno comincia a parlare un linguaggio diverso dal nostro che è il linguaggio dei tre pastorelli, no? Abbiamo visto la Madonna. La conclusione è sempre quella incarcerati, rustigati... È un po' quello che è toccato agli apostoli quando diciamo annunciavano la resurrezione di Gesù Cristo, che sono stati subito messi in carcere e poi è arrivato l'angelo e li ha liberati, quindi questo è... probabilmente la verità è scomoda. È la verità che fa male? Sicuro, ma poi la verità è perseguitata, è sempre perseguitata. E il mistero? Il mistero, c'è sempre il mistero in tutta la nostra vita, la nostra vita è un mistero per il fatto che nasciamo, viviamo e moriamo e non sappiamo perché, cioè cosa c'è dietro? Questo è il discorso del grande mistero e c'è, è certo che c'è dietro il cielo, che c'è qualcosa di sovrannaturale, perché se tu pensi a come è fatta la natura, non puoi non pensare a qualcosa di sovrannaturale, al mondo come va avanti, alle piante che crescono, gli alberi che crescono, i fiumi, eccetera. Se vogliamo venire all'uomo, quindi, e se vogliamo riferirci a quelle parole di Gesù Cristo in croce, che il destino si compia, no? Più o meno, quindi certe cose succedono perché siamo legati a un destino. Non ha un destino, diciamo che c'è un percorso, il percorso è il percorso, è un percorso spirituale della salvezza. Le apparizioni della Vergine sono molto interessanti perché non c'è solamente quella di Fatima, ma ce ne sono state delle altre, forse ce ne saranno ancora, c'è Lourdes per esempio che è importantissimo, poi c'è Mediugorie, poi c'è Stoccova, ci sono tanti, diciamo, anche in Italia ci sono tanti luoghi dove c'è stata queste apparizioni, diciamo così, vanno seguite. Facciamo un passo indietro, intanto Fatima dove sta? Fatima sta in Portogallo, sta nel nord del Portogallo, all'interno e non esisteva fino al 1917. Queste apparizioni avvengono in un piccolo paesino, in una cova, cioè in una grotta, si chiama la cova di Iria. Dopo lì è stata costruita la città di Fatima, diciamo così, è stata costruita la famosa cattedrale. Però all'inizio comincia tutto in mezzo alla campagna praticamente, con questi tre personaggi. Nel nulla. Nel nulla. Sono tre ragazzini, questi tre ragazzini, diciamo così, sono giovani, sono Lucia, Giacinto, mi sembra, Francesco, i suoi cuginetti, i due cuginetti. Dovremmo vedere una foto, eccola qua. Sì, ecco, c'è Lucia a sinistra, poi c'è Giacinto, Francesco e Giacinta. E sono, questa è una foto dell'epoca, logicamente, sono pastorelli che pascolavano le pecore. C'è però un antefatto, prima di questa apparizione della Vergine, che forse non tutti sanno. C'è stata un'apparizione di due angeli, due anni prima, che sono apparsi a Lucia, come quasi a fare un annuncio di quello che poi sarebbe successo. Questo suo Lucia lo riporta nel suo diario. Ci richiama un po' l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria. Sì, c'è lo stesso meccanismo. Dobbiamo anche pensare un'altra cosa. non voglio essere blasfemo, però da un punto di vista astrologico, che cos'è la Vergine? Come si può essere rappresentata? La Vergine è la Luna, è la Luna che è in cielo, che ha il suo ciclo, che è luna nuova, luna piena, luna nuova, che protegge, che dà la luce notturna. Pensiamo all'immagine della Madonna che ha sotto la falce di Luna, in moltissime, anche, diciamo, a Bologna, per esempio, quella in piazza, c'è sotto la falce di Luna e sotto la falce c'è il serpente. Il serpente sì. Perché la Madonna schiacciò. Sì, però il serpente, la Luna che cos'è? La Luna è il mondo sublunare per gli antichi. Cosa vuol dire mondo sublunare? Vuol dire il mondo della materia, della materia, la materia fisica. Quindi c'è questo dominio del cielo sulla materia fisica che viene rappresentato nelle immagini della Vergine. Questo non dobbiamo dimenticarlo, questo è fondamentale. Allora, questi tre pastorelli, ho detto che c'è stato questo annuncio degli angeli, questo giorno, mentre pascolavano le pecore, a mezzogiorno, questo è anche interessante, perché il mezzogiorno è l'ora dei re, delle regine, è un'ora particolare in astrologia, quindi sono piccoli segnali che chi magari non ci fa caso, però è un simbolismo importante, una cosa che succede a mezzogiorno è una cosa importante. Il sole... Sta al medio cielo. Una persona che nasce a mezzogiorno, si dice che a mezzogiorno nascevano i re, per dire, insomma, quindi anche questo particolare è importante. Senti, non è che si lega, per caso, poi torniamo naturalmente subito all'argomento, al fatto, se non ricordo male, del sole che si avvicina alla Terra, di questa... Questo viene dopo, il miracolo del sole è successivo. Sì, però il mezzogiorno mi fa pensare, no? L'apparizione avviene a mezzogiorno, e avvengono tutte a mezzogiorno. E si leghi, ecco. E quindi già da un punto di vista simbolico, ho detto che la luna e la vergine, in qualche maniera, tutti i grandi santuari mariani sono santuari lunari, cioè sono stati costruiti dove prima magari c'erano delle divinità lunari, quindi della notte. Abbiamo anche una foto della Vergine Maria, mi pare, no? Sì, la foto che c'è, diciamo così, a Fatima, diciamo, che c'è a Fatima, la rappresentazione che c'è a Fatima, che però Fatima è stata costruita dopo, diciamo. Noi siamo ancora nel 1917, l'apparizione avviene il 13 maggio, questa è un'altra cosa molto importante. La prima apparizione avviene il 13 maggio, poi questi pastorelli subiscono, magari sarà caso di un'altra tradizione... Maggio era già il mese della vergine? O è stato, o è arrivato successivamente? No, io credo che fosse, probabilmente, non lo so, anche questa è una domanda che... Maggio è comunque il mese della vergine e poi ci fa il rosario a maggio, infatti la Madonna si raccomanda di fare il rosario e di fare, in una delle prime apparizioni, e di far fare questo rosario soprattutto i sabati del mese, perché è soprattutto di fare un atto di comunione tutti i primi sabati del mese per proteggere il mondo dal male, ma soprattutto dal male vuol dire dalla mancanza, dal fatto che le persone non credono, questo lo diceva nel 1917, che non credono e che quindi, in qualche maniera, per avere questo affidamento, per avere questa protezione, questo è molto importante. La luna, ho detto, ha questa immagine, infatti bianca è questo splendore, diciamo, la veste bianca sempre, è una questione di candore, tutti i santi sono vestiti di bianco, le anime pure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lei parla e in qualche maniera loro si spaventano, poi succede che appena cominciano a raccontare, la faccio breve, appena cominciano a raccontare questa cosa alla madre e ai genitori, succede il casino, nel senso che questi li chiudono in casa, non possono più uscire, dicono che sono matti, che non hanno visto niente, eccetera, fino a che, a un certo punto della storia, ripeto, la sintetizzo, la sua Lucia, perché sua Lucia è quella che parla e che vede la Vergine, gli altri due credo che non riuscissero proprio a vedere la Vergine, e sua Lucia gli chiede chi sei a questa signora, vestita di bianco, e lei le risponde io sono l'immacolata Concezione. Questo è un punto chiave per capire questa storia, perché? Perché a quell'epoca una ragazzina di dieci anni non sapeva neanche cosa fosse l'immacolata Concezione, ed era una cosa che sapeva solo il Papa, che neanche era stata proprio divulgata. Quindi questo elemento, quando lei la racconta al parroco e quando viene raccontato al vescovo, diciamo che apre un po' la strada, perché fa capire che c'è qualcosa di soprannaturale in questa serie di apparizioni. C'è qualcosa che la ragazzina non poteva sapere? Non poteva sapere, che quindi non se l'ho inventato, diciamo così. Poi cosa succede? Succede che durante in una di queste apparizioni, quella del 13 luglio, perché è sempre il 13, ci sono questi famosi segreti, cioè nel senso che la Madonna fa vedere, dice una serie di cose. Primo, appunto, questa richiesta di affidamento e questa richiesta soprattutto di preghiera a tutti, a tutto il mondo, diciamo così. Poi dice appunto che la guerra sta per finire, la prima guerra mondiale. Però poi fa vedere una visione dell'inferno ai tre pastorelli, queste anime dannate o comunque che soffrono, che questa impatta molto i tre ragazzini. Questo, ripeto, Lucia lo racconta nel suo diario, che volendo si può scaricare da internet, e sono 300 passapagine, quindi è anche interessante capire un po' questo personaggio. Poi dice che ci sarà un'altra guerra, questa altra guerra verrà annunciata da un segno celeste, e in realtà a gennaio 1938 c'è una sorta di fenomeno astrale straordinario, un arcobaleno, eccetera, prima della guerra, diciamo così, di questa guerra del 39, che annuncia, mi sembra, a gennaio. Questo è riportato sempre nel diario, quindi dà una serie di riferimenti. E poi comincia a parlare della Russia e dice che comunque la guerra finirà, ma la Russia, ci sarà la rivoluzione in Russia, infatti la rivoluzione, e questo messaggio è del 13 di luglio, la rivoluzione praticamente ha il suo picco ottobre-novembre, che c'è l'assalto al Palazzo d'Inverno e quindi c'è la caduta dello Zare, eccetera, eccetera. Ecco, in qualche maniera lo Zare è caduto un po' prima, però comunque c'è il disastro totale, perché poi c'è la guerra civile fra i bianchi e i rossi, quindi comunque la Russia... e lei si raccomanda di pregare per la Russia e che quest'eresia che la Russia, che sarebbe il comunismo, che la Russia spanderà in tutto il mondo, creerà tutta una serie di problematiche al mondo intero, diciamo così. E per evitare questo raccomanda appunto l'affidamento della Russia o comunque dell'Est, diciamo così, alla Vergine. Questo è, diciamo così. Poi c'è questo alla fine, questo terzo segreto, questa parte di questo terzo segreto, che molti hanno interpretato in vario modo e magari poi... Questa, fra l'altro, quella che stavamo vedendo, che ci ha fatto vedere la regia... Scusami Claudio, poi torniamo, mi pare di vedere che i fedeli che si sono riuniti sono tutti rivolti verso l'altro. Allora, qui c'è un'altra cosa... È probabilmente una foto che fa riferimento a quel famoso miracolo del sole. Sì, però il miracolo avviene dopo, avviene alla fine. Allora, prima dobbiamo dire quello che ha raccontato la Vergine. La Vergine dice queste parole, quello che poi racconta nelle sue memorie nel 1941 su Lucia. Dice, la guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel regno di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quindi questo è l'annuncio della Seconda Guerra Mondiale, però dice se non smetteranno di offendere Dio. È chiaro che, è come dire, ci deve essere una relazione fra l'uomo e la natura. Se l'uomo non rispetta la natura e per primo non rispetta i suoi simili, è chiaro che si crea una situazione di confusione, di comunque distruzione, e questa distruttività poi ricade sui paesi, ricade sulle nazioni, ricade sulle persone, ricade sullo stato di benessere e, come dire, non si vive bene, insomma, da questo punto di vista. Bene, allora, adesso noi andiamo di nuovo a sentire Padre Marziano. Tu cosa ne dici? Sì, sentiamo cosa dice lui. Perché sentiamo cosa ne dice lui delle apparizioni mariane di Fatima e per il momento delle apparizioni mariane. Sentiamo. Le apparizioni mariane sono abbastanza frequenti lungo la storia. Si dice che oggi ce ne siano in atto, prima della verifica, almeno un centinaio. Alcune di queste hanno avuto un risalto particolare e anche un riconoscimento della Chiesa, quali Lourdes e quali Fatima. Si sta studiando anche quelle di Međugorje che da tempo la Chiesa le sta guardando per avere la verifica. Sulle rivelazioni bisogna sempre fare la distinzione che sono private inizialmente. Quindi se uno dice che ha un'apparizione alla Madonna, uno non è tenuto né a credeli e la può rispettare. Può essere anche un fatto personale, nessuno lo nega questo. Quando però la cosa prende un certo risalto, allora interviene la Chiesa per fare la verifica di questo, come è avvenuto per esempio per Fatima e per Lourdes. Questo è importante, soprattutto l'ultimo momento che dice bisogna tenere presente che le rivelazioni, o quando la Madonna si rivela, sono cose private. All'inizio si sono private e poi diventano pubbliche. Quello che vorrei dire che ha detto giustamente padre Marziano è che le apparizioni sono tante nel mondo e che, penso a quelle che sono state in Messico per esempio, la Madonna di Guadalupe, a Paresida in Brasile, eccetera. Però da un punto di vista, se vogliamo dargli simbolico, i santuari mariani sono santuari lunari. Questo forse i telespettatori non lo sanno. E le madonne nere, tipo quelle di Cestoccova, sono le lune nuove. Le lune bianche sono luna piena e le lune nere sono le lune nuove perché? Perché la luna non si vede, quindi nel calendario è messa in nero. Quindi c'è un legame strettissimo e la luna in astrologia è la madre. La madre è misericordiosa, la madre che aiuta, la madre che allatta, la madre che nutre. Quindi ha tutta questa serie di simbolismi, diciamo così, da tenere presente. Quindi se non teniamo conto, quindi le operazioni sono tantissime. Poi ci sono alcune che sono più importanti. Questa di Fatima direi che dopo l'urde è il luogo più magico che ci può essere. Che qualcuno andrà a Fatima, che non è lontano perché sta nel nord del Portogallo, a metà strada fra Porto e Lisbona. È facilissimo da raggiungere al giorno d'oggi. È un'esperienza che consiglio perché in qualche maniera ti cambia un pochino dentro. Soprattutto le persone sensibili, le persone che hanno un bisogno di spiritualità, le persone che si sentono insoddisfatte, le persone che sentono che le manca qualcosa. Di provare ad andare a Fatima perché veramente Fatima è un luogo di pace, è un luogo speciale. Dopo, ripeto, il santuario è stato costruito dopo. Da questo punto di vista è diventato un'opera enorme. La stessa cosa, se vogliamo, è per l'urde, no? Più o meno, quindi sono tutte cose che vengono costruite dopo. O anche per Meggiugori, quando ci sono le prime apparizioni della Madonna, che come ci ha ricordato padre Marziano, devono essere ancora ratificate, però c'è nulla. Allora, la Vergine cosa dice? Infatti avviene sempre in luoghi molto naturali, tipo questa era una cova, quindi una cueva, una grotta. Infatti c'è la grotta e anche l'urde è più o meno la stessa cosa. E praticamente, quello che dice la Madonna, dice che chiede la consacrazione della Russia al cuore immacolato. La comunione riparatrice dei primi sabati, poi annuncia che ci sarà un periodo difficile per la Chiesa, infatti la Chiesa verrà perseguitata, soprattutto in Russia, ma in tutti i paesi dell'Est, si impedisce praticamente il cattolicesimo, verrà bloccato fino alla caduta del muro di Berlino. Però l'altra cosa importantissima, e qui ci possiamo riallacciare, annuncia in qualche maniera che il Papa dovrà soffrire molto e che subirà un attentato. E questo è il famoso attentato a Giovanni Paolo II, e guarda caso cosa succede, che il proiettile di Liag Cha viene trovato, con cui viene ferito Giovanni Paolo II, e si dice appunto che è stata la Vergine a bloccare, non è arrivato al cuore per un miracolo, lo si trova sul sedile della macchina. Questo proiettile poi, Giovanni Paolo II, proprio perché lui era molto devoto alla Vergine, ma aveva capito che era la Vergine che gli aveva salvato la vita, verrà incastonato nella corona della Vergine, quella di Fatima. Ecco, perché è stata sempre, Giovanni Paolo II, Vittiu è stato sempre molto devoto alla Vergine. Quindi c'è questo legame strettissimo. E se non sbaglio, se non sbaglio, Claudio, abbiamo una foto proprio di Giovanni Paolo II con Suor Lucia. Sì, perché Giovanni Paolo II parlerà varie volte con Suor Lucia. Quindi allora, facciamo un passo indietro. Prima parliamo di segreti. Queste sono le cose che dice praticamente la Madonna. Poi anticipa quest'altra cosa della consacrazione e che ci sarà, qualcuno dice che ci sarà un'altra guerra, un'altra guerra, o comunque un altro momento difficile per il mondo. E per evitare questo bisogna appunto la comunione riparatrice nei primi sabati, il rosario, perché lei si presenta col rosario, come signora del rosario. Questa è un'altra cosa importante. Si presenta ai pastorelli in quella veste, quindi, e il cuore immacolato. Questa è l'altra cosa molto molto importante, no? E diciamo, questo un po' è quello che succederà poi dopo. Nel senso, anticipa quello che sarebbe successo dopo. E Giovanni Paolo II va varie volte a Fatima e parlò tante volte con Suor Lucia. Perché? L'avevamo detto forse nell'altra puntata che a Suor Lucia fu impedito di raccontare quello che gli aveva detto la Vergine fino più o meno mi sembra agli anni Sessanta, se non mi sbaglio. Dopo lei lo scrive, lei ha fatto questo diario e diventa tutto pubblico. Però questi segreti erano solo del Papa. Cioè, nel senso che il Papa aveva questa lettera che Suor Lucia aveva scritto, poteva aprirla, non aprirla. Alcuni Papi dicono che non l'abbiano neanche aperta. Neanche aperta. Quello che comunque sappiamo è che Giovanni Paolo II aveva una relazione particolare con la Vergine, era molto devoto alla Vergine e soprattutto aveva capito cosa c'era dietro questo segreto e dopo l'attentato lo capì ancora meglio, tant'è vero che va a Fatima e lui andò a parlare varie volte con Suor Lucia. Questa è un'altra cosa molto molto interessante. Probabilmente perché Suor Lucia... Dalla regia ci fanno vedere appunto... Eh, Suor Lucia probabilmente gli ha raccontato delle visioni, delle apparizioni perché lei era stata, come ho detto, gli era stato vietato di parlarne con chiunque e quindi questo è un elemento molto molto particolare e solo dopo che ne ha potuto parlare. Un'altra curiosità, Suor Lucia dopo le apparizioni, questo la Madonna l'aveva avvertita, i due cuginetti muoiono per l'epidemia di Spagnola, gli altri due veggenti che poi divengono beati, muoiono per l'epidemia di Spagnola. Lei va in... Prima va in seminario, studia, va in convento, prima va dalle Dorotè e poi diventerà carmelitana. È importante questo dentellato perché i carmelitani sono quelli che portano lo scapolare che è una specie di fascia della Vergine che protegge, diciamo così, e che comunque aiuta. Quindi questo legame strettissimo che c'è fra Suor Lucia e la Vergine. Poi l'altra cosa che bisogna dire è che Suor Lucia era un alfabeta, certo, non aveva studiato, però dopo fa le elementari, dopo questo va in collegio, però il diario e tutti dicono che fosse una monaca molto vispa, molto curiosa, molto umile, ma anche molto, molto intelligente. Ripeto, se qualcuno va a leggersi il diario trova sicuramente più in dettaglio quello che noi possiamo dire e trova anche particolari che sono sicuramente molto interessanti. Quindi raccomandiamo in un certo senso a chi si è incuriosito per questa nostra cosa di andarlo a leggere il diario. Si può scaricare liberamente da internet e poi magari un giorno facciamo una, come dire, una trasmissione specifica su Suor Lucia e sulla veggenza. Senti, adesso noi ci dobbiamo fermare, perché come tu ben sai e come sanno tutti i nostri telespettatori abbiamo un dovere specifico verso chi ci aiuta ad andare avanti come televisione. Però torneremo andando a sentire Padre Marziano su un argomento che anche tu hai sottolineato ed è perché alcuni papi hanno letto e altri no quello che Suor Lucia aveva diciamo aveva in un certo senso raccontato. Ritorniamo a Fatima perché stiamo parlando di Fatima e ci ritorniamo con questo argomento ma subito dopo la pubblicità. ben trovati amici di Cammino il nostro cammino alla ricerca di luoghi e misteri di cui parlare. In questa puntata stiamo parlando ovviamente di Fatima ma in generale siamo partiti comunque con un largo giro d'orizzonte riferendoci alle apparizioni mariane. È chiaro che Fatima è un esempio lampante di quello che è accaduto a livello di apparizioni poi ecco l'abbiamo già sentito il sottofondo sentiamo in proposito legato al fatto che qualcuno ha letto qualche Papa qualcuno no quelli che erano i segreti sentiamo cosa ne dice padre Marziano Rondina. Sì perché era riservata al Papa e alcuni ritenevano che non fosse il momento di leggerlo semplicemente altri invece dopo anche la morte di Lucia e anche perché c'era un affidato per l'autorità della Madonna che il Papa fosse a dire la sua ecco è avvenuto poi dopo nel 1996 e poi nel 2000 questi interventi in cui la Chiesa ha detto la sua direi semplificando un po' l'attesa minacciosa che alcuni pensavano e dicendo sempre che il contenuto di questi messaggi era personalmente riservato alla persona destinataria che non aveva non aveva diciamo il peso di una rivelazione ufficiale rivelata a tutti e che meritava discrezione perché in qualche maniera qualcosa significava ma non era specificato per cui andare a cercare su questi testi un qualcosa che uno volesse dire ecco la minaccia della guerra di oggi e altre cose non è facilmente sostenibile questo per evitare da una parte quello che il Papa chiamava la mania del sensazionale e dall'altra anche invece il fatto che è possibile che la Madonna si riveli a una persona e che attraverso questa persona incoraggi il mondo al bene e lo scoraggi da ogni forma di male ecco è importante anche questo passaggio Claudio sicuramente diciamo che mi posso rilacciare a quello che dice la Vergine sempre sul diario di sua Lucia quando Lucia gli chiede ma chi sei lei gli dice non abbiate paura non voglio farvi del male da dove venite signora lei gli chiede lei gli dice vengo dal cielo e quindi in qualche maniera gli dà già una risposta e poi si presenta con il rosario in mano con il rosario proprio per questo bisogno di preghiera di equilibrio che in qualche modo dovremmo avere tutti quanti insomma tenete presente che le apparizioni sono tante e tutto sommato sono tante vanno avanti per tutto quasi tutto il 1917 e in alcune apparizioni la Vergine annuncia a Lucia che i suoi cuginetti sarebbero morti che comunque la guerra terminerà ma che lei vivrà a lungo infatti Lucia muore mi sembra nel 2005 dal 1900 diciamo così quindi è importantissimo aveva probabilmente una decina d'anni vedendo le foto muore nel 2005 se non mi sbaglio quindi arriviamo quasi verso i cent'anni sì e perché tu devi diffondere questa cosa e devi diffondere questo messaggio della Vergine questo diciamo così infatti lei lo farà senti però io mi riattacco sempre a questa a questa che è una mia mania no se Maria può dire i due tuoi cuginetti moriranno presto e tu invece vivrai a lungo c'è qualcosa però che quando nasciamo ci portiamo e che è scritto questo noi diciamo questa mia domanda è chiaro è un mistero la cosa che io posso fare per investigare siccome di suor Lucia in questo diario c'è l'ora di nascita la data precisa di nascita 22 marzo e quindi inizio a riete anche una data molto particolare 22 marzo perché è l'inizio dell'anno astrologico quindi simbolica si può da una carta vedere anche le tendenze della persona io ne faccio più un discorso generale se è vero che la Vergine Maria si può permettere di dire io penso che quello fosse già deciso cioè il destino secondo me funziona in questo modo per quello che ho studiato tu fai un percorso ecco ce lo portiamo dietro comunque scegli quel percorso aspetta però in base a come tu ti comporti e in base a quello che sono gli eventi intorno a te puoi prendere una strada però questa strada in qualche maniera può essere decisa prima cioè i pastorelli potevano anche rifiutarsi e scappare via come hanno fatto tanti altri che sono stati invitati all'inizio alla cueva alla cova dei Ria e non sono andati come sono stati altri che quando si viene a sapere questa cosa i pastorelli in agosto vengono chiusi in casa li si prende in giro gli si dice che li porta alla cueva di Ria e sono bambini e poi li si mette in prigione cioè queste sono cose pazzesche se pensiamo ai ragazzini di otto anni che male possono fare e nel 1917 e poi nel 1917 quindi prima che la verità venga a galla ci vuole del tempo poi ci possono essere degli eventi straordinari però io penso non a caso torniamo sempre lì Giovanni Paolo II sarà quello che beatificherà i due cuginetti di sua Lucia nell'anno 2000 infatti nell'anno 2000 ci dovrebbe essere una foto proprio della basilica di Fatima dove ci sono le immagini di due pastorelli perché lui va in qualche maniera a Fatima e va a Fatima a come dire va a Fatima nel momento della beatificazione a dire questa cosa in qualche maniera porta poi questo poi diventano santi dopo però già eccolo questa immagine che è imperfetta questa qui si vedono le due immagini a destra a sinistra del campanile della cattedrale della basilica e poi le due immagini perché questo è l'anno 2000 la beatificazione dei due pastorelli che in qualche modo erano innocenti e muoiono appunto per questa epidemia di spagnola e invece il suo Lucia vivrà a lungo ok poi c'è un'altra cosa importante che alla fine l'ultima apparizione è quella dell'ottobre del 1917 dove c'è il famoso miracolo del sole che è la fine diciamo perché dopo la Madonna qui noi abbiamo alcune foto che la regia eventualmente ci può far vedere della gente di quanta gente c'era nel momento in cui accade questa cosa ed è il miracolo del sole con il sole che sembra precipitare verso la terra allora diciamo facciamo l'antefatto il 13 ottobre la Madonna dice che si manifesterà il 13 ottobre e che di convocare tutte le persone perché a questo punto erano passati i mesi la cosa già si sapeva quindi di venire e che lei avrebbe dato un segno del fatto che era una cosa sopranaturale o comunque che veniva dal cielo allora i pastorelli convocano automaticamente perché poi durante le apparizioni la gente che va alla cova di ria aumenta in continuazione li convoca appunto il 13 ottobre 1917 a mezzogiorno succede questo chiamato miracolo del sole che qui anche i non credenti si devono in qualche maniera ricredere ricredere perché questo è stato riportato dai giornali il sole comincia a ballare comincia a precipitare sembra che precipiti sulla terra tutta una serie di fenomeni che non sono spiegabili astronomicamente non c'era nessun eclisse non c'era nessun fenomeno astronomico particolare in quei giorni però c'è questo ballare del sole che avviene solo lì poi c'è una e questa è la foto che vediamo è la folla diciamo che stava in quel luogo in quel momento poi comincia a piovere piove tantissimo dopo questa cosa e la gente non si bagna la gente non si bagna e dopo il sole ritorna in sua posizione a sua posizione questo fatto straordinario è riportato da tutti i giornali dell'epoca io ho portato una serie ecco vedete alcune immagini ecco questo dice è in portoghese come il sole ballò a mezzogiorno è in Fatima in Fatima quindi questa è una roba che cosas espantosas che vuol dire cosa spaventosa diciamo così di giornali come questi ce ne sono tantissimi dove ci sono sia le immagini di Pastorelli sia le immagini ecco qua altre immagini se non ricordo male è stato fatto anche un film bellissimo no? sì c'è stato un film fatto ancora bene sì si può vedere è abbastanza interessante è bianco e nero se non ricordo male no credo che sia a colori per quello che dico io ne ho visto uno a colori però diciamo gli eventi sono spiegati in maniera abbastanza precisa in maniera dettagliata ecco corrispondono alla verità non sono stati inventati come spesso succede tutti i giornali ne parlano non solamente in Portogallo ma anche in Spagna e anche in tutto il mondo praticamente ecco questo è del portoghese il secolo sarebbe oh è l'articolo il secolo a destra c'è la foto dei Pastorelli e quindi questa cosa ha una risonanza eccezionale tantissima gente si convertirà dopo questo miracolo dopo sì è un articolo e vedi l'occhiello dell'articolo che riproduce ancora como sol baglio ed meo dia em fatima a mezzogiorno e quindi sempre a mezzogiorno però ecco io infatti prima quando ti ho interrotto perché ricordavo perfettamente che il miracolo del sole arrivò proprio a mezzogiorno ma tutte le apparizioni avvenivano a mezzogiorno proprio per quel discorso che il sole sta in alto e dal medio cielo quindi illumina diciamo così il mondo in quel momento preciso ecco quindi diciamo comunque ci sono tantissimi periodici questa cosa viene riportata poi l'altra cosa interessante questa grande pioggia e la gente che non si bagna rimane asciutta questo è un altro miracolo diciamo così straordinario e qui ci sono nel diario sono riportate ma se avete su internet ci sono tutte le testimonianze di quelli che hanno assistito a questa cosa quindi questo non è una follia collettiva poi abbiamo visto quanti erano quelli che hanno assistito no? non è una follia collettiva è un qualcosa che è vero insomma che è successo realmente poi ed è difficile dare un'altra spiegazione che non sia sopranaturale di un fenomeno sopranaturale perché ripeto da un punto di vista astronomico io mi sono andato a vedere le femeridi di quel giorno le femeridi sono il calendario di quello che succede da un punto di vista astronomico in quel giorno non c'era nessun aspetto particolare che facesse pensare un'eclissi o un'occultazione o qualsiasi cosa quindi chiaramente è un fatto straordinario poi è avvenuto solo lì non è che è avvenuto in tutto il mondo quindi questo questa è un'altra cosa che deve far pensare un'allucinazione no collettiva non è possibile collettiva poi soprattutto non lo spiego la questione della pioggia della pioggia che è insomma sì perché la pioggia effettivamente è reale perché il terreno poi era umido bagnato se vedete nelle foto nelle foto si vede che il terreno è bagnato la gente lì che prega però è tutto bagnato quindi non voglio dire non può essere un'allucinazione c'era non so quanti migliaia e migliaia di persone insomma quindi numeri spaventosi io la ricordo quell'immagine viva e ancora viva nei miei occhi del film ovviamente perché altrimenti poi dalla regia chissà cosa stanno pensando no e stanno già elucubrando che io fossi già nato nel 1917 per vedere per vedere queste immagini guarda ci sono due film di quel periodo c'è in uno nel 1951 ecco e forse è quello che faccio riferimento io che era in bianco e nero il segreto di Fatima e poi c'è in uno nel 1952 nostra signora di Fatima uno è di uno spagnolo io ricordo la collina la collina gremita di persone che guardavano verso l'alto e appunto questo miracolo del sole quello che ho visto io a colori era abbastanza dettagliato nel senso che gli eventi l'incarcerazione dei pastorelli il fatto che li minacciano gli dicono vi ammazziamo fanno tutta una serie di angherie questi sono riportati nel diario e sono sicuramente giute insomma poi ce n'è stato un altro per gli spettatori si chiama Fatima di Marco Pontecorvo nel 2020 eccolo quello diciamo magari molto più recente e quindi probabilmente quello è sicuramente a colori io chiedo alla regia a questo punto se può tornare per un attimo indietro e farci rivedere invece cosa ci dice padre Mastiano di Fatima in particolare che è un po' legato anche al discorso del terzo segreto e che abbiamo sentito anche nella puntata della settimana scorsa che abbiamo dedicato alla Russia e all'Ucraina e allora sentiamolo questo del terzo segreto di Fatima ha incuriosito interessato sempre la gente c'era la riserva di non farlo almeno come era affidato alla Suor Lucia di non farlo conoscere prima del 1960 poi nel 2000 si interessò di questo direttamente il Papa Giovanni Paolo II e prima nel 1996 c'era stata una dichiarazione dell'allora Cardinal Ratzinger il quale aveva fatto una dichiarazione diciamo che non non soddisfaceva la curiosità non so se legittimo o legittima della gente però aveva fatto una distinzione molto precisa cioè tra la rivelazione ufficiale della chiesa che finisce con la morte dell'ultimo apostolo e rivelazioni invece private e particolari che si possono succedere ora nel confronto della mi sono informato nei confronti del terzo segreto di Fatima si è diffuso tra la gente quasi un pensiero di minaccia e di paura la dichiarazione che fu fatta invece voleva allontanare tutto questo certo la Madonna dice sempre di ascoltare Gesù di seguire la sua parola certamente condanna ogni forma di male questo è ovvio ma si parla in questo caso di un linguaggio non di facile lettura e comunque un linguaggio che si riferiva in forme diciamo non precise a eventi di storia per cui alcuni volevano leggerci una persona particolare o una situazione particolare anche delle tante che poi sono accadute e quindi oggi come oggi secondo me fare riferimento al terzo segreto di Fatima pensando che alludesse a delle cose gravi che ci colpiscono come oggi come la guerra e le tante guerre che sono sempre presenti non sembra giustificato dal testo perché proprio il cardinale Ratzinger allora si preoccupò di dire che non c'era niente di sensazionale c'era un linguaggio abbastanza simbolico rivolto alla persona direttamente e che non era di facile lettura né di applicazione a situazioni storiche di attualità ecco dunque torna se vogliamo di attualità il fatto comunque che i tre pastorelli erano analfabeti e quindi avevano probabilmente un linguaggio realmente legato al popolo quindi forse anche di difficile interpretazione e soprattutto ritorno al discorso accennato prima non potevano sapere che cos'è l'immacolata concezione che è un dogma del Papa e quindi che il Papa stava preparando in quel momento lì in quel periodo lì quindi non avevano quella cultura questo già in qualche maniera diciamo che la Virgine Maria aprì una finestra particolare perché la gente capisse che forse qualcosa di strano dentro quella grotta stava succedendo diciamo che il suo modo credo voglio interpretare il suo modo di aiutare il mondo e la Virgine si rivolge sempre a persone umili a persone che magari non hanno una grande istruzione ai bambini ma perché perché lo diceva anche Gesù Cristo lasciate che i bambini vengano a me cioè nel senso perché sono persone pure dentro e di conseguenza hanno un animo molto dolce molto caritatevole non hanno tutte le sovrastrutture che abbiamo noi insomma da questo punto di vista certo poi bisogna ricordare a mio avviso una cosa che per i cristiani per i cattolici la Vergine è salita in cielo col corpo e quindi e quindi forse è proprio la Vergine che può magari uno si chiede perché non si manifesta mai Gesù Cristo no perché forse forse anche per questo sì diciamo una cosa che la Vergine è fondamentalmente una protettrice ritorno all'immagine della della Luna che sta sotto sotto i piedi e quindi in qualche maniera è un dominio sulla materia e quindi sul male quindi la potenza del bene sul male però è anche un come dire una protezione in qualche in qualche modo sicuramente ci sono dei fatti straordinari diciamo questo ripeto questo fatto del piovere è che quel giorno lì molta gente si è convertita questo c'è nel diario che dice il sole cominciò a danzare prendo uno a caso a un certo punto sembrò staccarsi dal firmamento e correre verso di noi come una ruota di fuoco poi un'altra dice udì urla di gioia e di amore verso la Madonna di Fatima da parte di qualche migliaio di bocche e allora credetti quindi c'è il fatto della conversione improvvisa che questo viene dal cielo uno può cercarla altro argomento che abbiamo trattato nel nostro cammino che però improvvisa le conversioni improvvise ebbi la certezza di non essere stato vittima di una suggestione qui lo dicono anche avevo visto il sole come non l'avrei mai visto di nuovo ancora uno dice nel momento in cui almeno se ne sarebbe aspettato i nostri vestiti risultarono completamente asciutti queste sono dichiarazioni riportate dai giornali riportate dalle persone che poi in parte sono nel diario quindi sono diciamo incontrovertibili cioè non senti come si collega allora il luogo a questo mistero beh il luogo sicuramente chi va a Fatima è un po' come il cammino di Compostela di Santiago de Compostela è un luogo energeticamente equilibrato Fatima anche chi non è credente lo avverte c'è una pace particolare in quella basilica quando si va davanti alla grotta anche questa ampia basilica diciamo come strutturata questo grande campanile quello lo avvertono tutti credenti e non credenti poi c'è chi approfondisce e magari desidera andare al di là e quindi scoprire il mistero e andare verso lo spirito qui invece dice ah vabbè è una suggestione in realtà quel luogo ma vale un po' per tutti i luoghi dove ci sono stati tutti i santuari mariani più o meno più o meno hanno questa carica energetica particolare quindi in Italia ne abbiamo tantissimi mi viene in mente quello di Vicenza per fare un riferimento mondiale è Notre Dame allora a questo punto no? beh è una basilica è un basilica Notre Dame è molto molto particolare da questo punto di vista non so se proprio lo possiamo così era un santuario perché lì c'è la vergine che in qualche maniera viene onorata invece dove c'è un'apparizione che è un po' diverso si si d'accordo poi le apparizioni possono essere tante come diceva padre Marziano ci sono anche delle madonne che lacrimano per esempio che avvengono lui ha detto in questo momento un centinaio loro lo sanno sicuramente diciamo a parte Mediugorie che è ancora lì però ce ne sono tantissime però io consiglio di andare in questi santuari mariani quelli che avete vicino a casa vostra e ce ne sono tantissimi vedrete che sono tutti luoghi particolari sia per la storia che hanno sia diciamo così per l'energia del luogo perché lì poi ci sono state anche tante persone che pregano non dimentichiamo una cosa che gli antichi quando costruivano una chiesa avevano una doppia funzione c'erano quelli che mettevano i sanpietrini e che attaccavano insieme i vari tassellini e quelli che pregavano in modo tale che l'energia di quel luogo di quella cattedrale di quella basilica si impregnasse delle preghiere delle persone adesso le chiese non vengono più costruite così suggerisco di leggeri pilastri dalla terra di Ken Follett in questo caso però come succede come mi succede spesso come è accaduto per la puntata che abbiamo dedicato alla che abbiamo riservato per meglio dire che non si confondano voi le cose abbiamo riservato Russia e Ucraina e ho fatto una domanda un po' particolare a padre Marziano e allora siccome il luogo è Fatima e siccome spesso sentiamo che dove ci sono delle apparizioni ci sono delle profezie e allora io ho chiesto a padre Marziano ma mi spiega perché la gente è così attenta alle profezie e non a altre cose ad esempio alla Madonna che ci chiede di pregare è meno attenta che non ad una profezia se c'è stata bella domanda sentiamo una bella domanda sentiamo cosa ci dice padre Marziano sì questo è interessante notarlo e secondo me è l'aspetto più importante di tutta la questione perché è vero che popolarmente anche le persone credenti ma anche quelle non credenti a volte sono psicologicamente più predisposte ad aspettarsi una minaccia anche per dei sensi di colpa che a volte sono più psicologici che etologici e quindi c'è cederei quasi una predisposizione secondo me il cristiano che conosce bene l'esperienza della fede la vita della chiesa e i mezzi sacramentali che la chiesa ha di fronte a queste cose dà la dovuta attenzione ma senza esagerare perché le cose più importanti le sappiamo e l'invito a comportarsi bene a evitare il male è ovvio per tutti che certo una guerra ci impaurisce ovviamente anche perché noi vede a volte noi adesso siamo un po' lontani da quella guerra e ci dispiace ci disturba però un po' però la meta non è che io stia più tranquillo perché finisce la guerra quasi con un fatto mio ma che io mi preoccupo perché la guerra non ci sia comunque perché è vero che a chi è lontano come noi e può arrivarci abbiamo anche una paura però c'è gente che la soffre veramente in questo momento e quindi questo mi pare che ci riconduce a una riflessione su quella che è un po' la condizione della gente sia credente sia anche magari meno addentro alle esperienze della chiesa perché i sensi della colpa i sensi della paura della minaccia sono molto frequenti anche a chi non ha una grande dimensione una grande esperienza religiosa bene Claudio la 42esima tappa del nostro cammino ricordo che siamo alla quarta stagione e questa è la seconda puntata quindi 42esima tappa si chiude qui però il nostro cammino continua no? certo certo e quindi aspettatevi qualche altra novità nel proseguo di questa nuova stagione per quel che riguarda luoghi e misteri grazie Claudio ci vediamo grazie a tutti voi che ci seguite alla prossima grazie a tutti